Epifania ortodossa, magnate russo, ospita la festa degli ucraini. Oleg Tinkov, oppositore di Putin, ospiterà i profughi nel suo stabilimento balneare a Forte dei Mar. Appennino senza neve, aiuti agli operatori turistici. Il presidente della regione Gianni ha partecipato alla riunione convocata dal ministro del turismo, Daniela Santanchè. Anti-infiammatori introvabili, situazione critica anche nella nostra provincia, c'è difficoltà a reperire farmaci utili per le malattie di stagione. Tre opzioni sul tavolo, lucchese verso la cessione, il presidente Vichi, ospite giovedì sera a Curva Ovest, e gli altri dirigenti decideranno entro pochi giorni diversi scenari possibili di un mercato di gennaio ancora da impostare. Ben trovati a questa edizione del nostro telegiornale, lo avete sentito anche dai nostri titoli di apertura in primo piano, l'epifania ortodossa è in calendario il 18 e 19 gennaio, vediamo come si preparano a festeggiarla i profughi ucraini arrivati in provincia di Lucca. Si terrà alla Dacia Beach di Forte dei Marmi l'epifania ortodossa dei profughi ucraini arrivati nei mesi scorsi in provincia di Lucca. Le famiglie scappate dal conflitto saranno ospiti del magnate russo Oleg Tinkov, che sin dall'inizio aveva condannato l'offensiva militare, per celebrare il 18 e 19 gennaio la festa che conclude il loro periodo natalizio. Secondo il rito, i fedeli devono immergersi in mari, fiumi, laghi per ricordare il battesimo di Cristo. Quest'anno, per i tanti costretti a lasciare la propria casa, anche le onde del Tirreno consentiranno di proseguire questa antica tradizione che, secondo la Chiesa d'Oriente, purifica dai peccati e previene le malattie. Questo anno andiamo a Forte dei Marmi, una molto famosa persona, Tinkov, lui ha detto come posso venire a sua spiaggia e fare questa festa. Facciamo tre volte il bagno e poi facciamo uscire, facciamo asciugare e va bene, e nessuno fa malattia. Un sacerdote ortodosso arriverà da Genova sul litorale versiliese per la cerimonia, a cui prenderà parte anche Lilia, ex docente di matematica e fisica a Kiev. Arrivata in Italia per fuggire alla guerra, adesso vive in una casa in provincia di Lucca, con la mamma, i figli, la sorella, i nipoti e altre nove famiglie di connazionali. Sono conosciuti tutti di qua perché prima sono scappati via da sole, non conosco nessuno, adesso abbiamo una grande famiglia con 30 persone e abbiamo nove amici. Un augurio speciale per questa festa. E veniamo agli aggiornamenti riguardo all'andamento della pandemia, leggiamo assieme i dati relativi alle ultime 24 ore, sono 647 nuovi contagiati a livello regionale. Il tasso di positività è al 12,3%, 390 il numero dei pazienti ricoverati nei posti letto Covid, in calo di 45 unità rispetto alla giornata di ieri, mentre resta stabile il dato delle terapie intensive, 22,6 i decessi, 77 invece il numero dei nuovi contagiati in provincia di Lucca. Cambiamo pagina, non c'è neve sull'Appennino e gli operatori turistici temono il tracollo. Oggi c'è stato un incontro a Roma con la ministra al turismo Daniela Santanchè, si è parlato di possibilità di cassa integrazione per i lavoratori del settore e agevolazioni sui mutui. Accolta una proposta del Presidente della Regione Toscana, Gianni, affinché i comuni delle zone interessate possano trattenere interamente i proventi dell'Imu. Sentiamo l'intervista. È stato poi raccolto anche una proposta che io mi sono sentito di fare. molti dei comuni interessati si trovano a vivere quella situazione che il decreto Monti una decina d'anni fa aveva previsto in caso di grande consistenza di seconde case come percezione del, oggi è l'Imu l'imposta appunto sugli immobili, per coloro che i comuni che hanno molte seconde case, il 50% delle imposte riscosse sarebbero state utilizzate nei bilanci dei comuni interessati, il 50% sarebbe stata percepita a Roma per la redistribuzione in situazioni di disagio. Ma oggi è incongruente questa norma, le condizioni di disagio li vivono proprio questi comuni. Allora la proposta a costo zero per il bilancio dello Stato è mantenere queste risorse nei comuni che sono direttamente toccati. Per fare un esempio concreto il comune di Abitone si trova ad avere oggi una percezione di un milione e nove di questa imposta ma circa un milione la deve restituire a Roma. La proposta è che non la restituisca e che la gestisca per tutte le attività. Voi capite che in un comune come Abitone e Cutigliano avere a disposizione diretta un milione nell'arco dell'anno è comunque qualcosa che può servire a alleggerire le situazioni di disagio. Andiamo in Valle del Serchio. I carabinieri di Barga e Castelnuovo hanno denunciato un cinquantenne versiliese ritenuto responsabile del tentato incendio di un'auto a Fornaci nell'autunno dello scorso anno. Le fiamme erano state spente da alcuni passanti prima che potessero avvolgere interamente l'auto. dagli accertamenti è emerso che la vittima e il presunto incendiario in passato si conoscevano tanto che il movente sembra essere maturato a seguito di precedenti dissidi tra i due. E anche nella nostra provincia di Lucca è allarme per quanto riguarda la reperibilità dei farmaci per i malanni di stagione. Sono quasi 3.000 i farmaci di difficile reperimento nelle farmacie. Una situazione estremamente critica dato che molti dei farmaci, sia di marca che generici, sono quelli necessari per le malattie di stagione, in special modo antinfiammatori o fluidificanti del catarro. A confermare questa crisi è l'ordine dei farmacisti che spiega come sia vasto il ventaglio dei medicinali introvabili e non legati ad un principio attivo specifico. Sicuramente sì, la mancanza di farmaci è importante, mancano quantità importanti, mancano tipologie di farmaci più svariate e la situazione è abbastanza critica. Non è drammatica per l'amor di Dio, però è abbastanza critica. Il problema è che mancano sia gli originali, i brand che i generici, mancano varie formulazioni, compresse, buste, compresse effervescenti, buste effervescenti. La situazione è abbastanza incredibile, mancano antibiotici, mancano infiammatori, mancano sciroppi per bambini, mancano sciroppi di antibiotico per bambini, mancano gastroprotettori. La varietà di prodotti è notevole. Finora abbiamo risolto a bocconi, magari te ne arrivano due una mattina, tre una mattina, una tipologia, arrivano qualche scatola, però la situazione è sicuramente da monitorare. Una situazione che i farmacisti della provincia stanno tamponando, riuscendo comunque a garantire le forniture, a volte magari con qualche ritardo, ma che rischia di diventare molto critica, anche perché le case produttrici non stanno dando risposte soddisfacenti riguardo le tempistiche per un rientro della produzione a regime. Allora, non sono convincenti per nulla. Le ditte dicono sempre le stesse cose, manca il vetro, manca la plastica, manca il packaging, manca la cartone, manca l'alluminio per fare il blister, però non c'è una risposta certa. Manca per questo motivo e riprenderà la produzione tra un mese, tra 15 giorni, tra due mesi. Per i prossimi sei mesi non ve ne preoccupate, non ce ne sarà più. Cioè, noi vorremmo delle risposte precise, perché al cliente finale gli va detto poi qualcosa, non è che oggi non ce l'ho, non ce l'ho, non ce l'ho, non ce l'ho, non ce l'ho. Cioè, le risposte devono essere precise. Manca questo prodotto, ci sarà fra 15 giorni. Però capire come mai manca il brand, manca il generico, mancano le varie forme farmaceutiche, sinceramente non è chiaro. Nuovo ponte sul Serchio. A metà marzo verrà posata la prima pietra della grande infrastruttura. Prende forma il calendario per la realizzazione del nuovo ponte sul Serchio di Lucca. A metà febbraio la firma ufficiale del contratto tra la provincia e Fincantieri, che si è aggiudicata l'appalto da 27 milioni di euro. Poi, a metà marzo, la posa della prima pietra dell'infrastruttura, che collegherà la SP1 francigena, via per Camaiore, con la statale 12 del Brennero. Sono queste le tempistiche emerse nel corso dell'incontro svoltosi a Palazzo Ducale tra il presidente della provincia, Luca Menesini, e i dirigenti tecnici di Fincantieri, che ha proposto una serie di migliorie tecniche per l'infrastruttura, l'allestimento del cantiere, e un ribasso del 3,7% rispetto all'importo dei lavori posto a base di gara, proponendo una considerevole riduzione dei tempi di durata dei lavori, che si assestano sui 480 giorni complessivi di cantiere. L'incontro con Fincantieri è stato molto positivo. L'impresa è conosciuta, conosciuta anche per gli interventi significativi che ha fatto in questi ultimi anni il ponte di Genova, ma anche il ponte di Albiano. Ci sono le condizioni, e queste abbiamo verificato affinché i lavori possano iniziare già nel mese di marzo, e allo stesso tempo con l'offerta che è stata fatta, che prevede una grande riduzione delle tempistiche, appunto, da una parte rispetto al cronoprogramma, ma soprattutto avere l'opera realizzata entro il 2024. E da lunedì riaprono a tempo pieno due uffici postali della Piana di Lucca, il cui orario era stato ridotto a causa della pandemia. Quello di Marginone ad Alto Pascio e quello di Saltocchio a Lucca, lo ha annunciato Filomena Delprete, segretaria CISL Lucca. Nella foto l'orario del servizio di sportello passerà da 3 a 6 giorni settimanali. E parliamo adesso di mobilità elettrica. Salgono a 93 i punti di ricarica a Lucca. Balzo in avanti del numero dei punti di ricarica per la mobilità elettrica a Lucca. La Giunta Municipale ha approvato il nuovo piano comunale che prevede l'installazione di 59 nuovi punti di ricarica per veicoli elettrici sul territorio comunale. Si passerà dalle attuali 35 colonnine e 64 posti auto disponibili ad un totale di 93 punti di ricarica e 182 stalli, a cui si sommano le 8 postazioni gratuite per la ricarica di biciclette e scooter già esistenti. Nel dettaglio 10 nuove colonnine di ricarica saranno localizzate in centro storico, in aree ancora da definire. Altri 7 punti di ricarica saranno localizzati nell'immediata periferia, 17 nelle frazioni. Infine 23 colonnine sono destinate ai cosiddetti grandi poli di attrazione, ovvero parcheggi di supermercati, grandi centri commerciali e poli scolastici esterni al centro storico. Il piano consente una programmazione finalmente consapevole e razionale, ha detto l'assessore con delega alla mobilità Remo Santini, attuando così le direttive europee e nazionali per il contenimento delle emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera. Nelle prossime settimane è prevista l'attivazione delle procedure pubbliche per l'individuazione degli operatori che effetturano l'installazione dei nuovi punti di ricarica. Claudio Baglioni, il primo marzo al Teatro del Giglio, fa tappa a Lucca. Il count autore con il suo tour 12 note solo bis. Baglioni si esibirà sul palco del Teatro Cittadino, voce, pianoforte e altri strumenti con le composizioni più preziose del suo repertorio, protagonista assoluto di un concerto che ripercorre la sua intera carriera. Andiamo a Bagni di Lucca dove è stato presentato il cartellone di Teatro Scuola. Si è svolta presso la sala consigliare del municipio di Bagni di Lucca la conferenza stampa di presentazione dell'edizione numero 30 della rassegna teatrale Teatro Scuola. Dopo gli anni complicati legati al Covid si tratta di una ripartenza a tutti gli effetti o meglio di un ritorno alla normalità per quanto riguarda lo svolgimento del programma della manifestazione. Anche se in questi anni legati all'emergenza l'evento si è mantenuto vivo grazie soprattutto alla partecipazione delle scuole del territorio. La rassegna ora torna comunque alla ripartenza piena. Torna il Teatro Scuola con la tradizionale apertura del teatro a tutti, sia in fascia mattutina che in fascia pomeridiana. Un'apertura che non ha più restrizioni di alcun tipo, è aperto a tutti, a genitori, a bambini, a tutti. Questo è un grande successo e noi siamo veramente molto soddisfatti di arrivare a questa trentesima edizione con un nuovo spirito. Ad organizzare l'evento per il terzo anno consecutivo insieme al Comune di Bagni di Lucca con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e l'Associazione Il Circo e la Luna. Ma quali saranno gli appuntamenti più importanti e le novità dell'edizione 2023? Intanto il fatto che c'è sia di nuovo la formazione per docenti, come gli anni scorsi, che può essere fatta sia online che in presenza. Ci sono degli spettacoli che possono venire nelle vostre scuole, cioè veniamo direttamente a fare il teatro da voi, oltre alla consulata formazione che facciamo per i vostri ragazzi. E poi un'altra novità importante è il passaporto teatrale che consente ai ragazzi di imparare a fare i critici teatrali, fare recensioni e praticare il nostro bel teatro. In chiusura lo sport con la Lucchese verso la cessione, mentre la Lucchese prepara l'atteso derby di Ponte d'Era domenica alle 14.30. L'interesse si riversa sugli sviluppi delle trattative in corso per la cessione della società. Entro pochi giorni verrà presa una decisione da parte degli attuali dirigenti anche per garantire lo sviluppo del mercato di gennaio. La situazione è chiara. Da tempo sul tavolo del Presidente Vicky ci sono al vaglio tre proposte. In base alla scelta che sarà fatta potrebbe avvenire un completo passaggio di mano del pacchetto di maggioranza oppure prefigurarsi un affiancamento all'attuale dirigenza. Ma di questo e tanto altro si parlerà in modo più ampio e dettagliato giovedì sera alle ore 21.15 nel corso della diciottesima puntata stagionale di Curva Ovest. E con questa notizia chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. La linea adesso va alla redazione di Viareggio e della Versilia.